In pochi secondi può dipendere tutto da noi. Le manovre salvavita sono importanti e fondamentali perché fanno la differenza. Si fanno con le proprie mani e quindi riescono realmente a salvare una vita perché sono dei gesti semplici. Se ogni cittadino imparasse a fare un massaggio cardiaco, a fare le manovre salvavita, riusciremo a prevenire quello che è la morte cardiaca improvvisa. I numeri danno ragione. Se si interviene immediatamente nei primissimi minuti da un arresto, abbiamo tantissime possibilità di salvare una vita umana. Chiunque può capitare di trovarsi in una situazione di necessità e avere in sé una conoscenza e quindi una pratica sarà sicuramente meglio che trovarsi del tutto sprovvisti di ecco cosa faccio di quel panico. L'intervento dell'ambulanza, del medico è sempre decisamente successivo all'evento dannoso. Quindi l'intervento e la prontezza dell'intervento è la cosa fondamentale. È un atto semplicissimo ma che occorre diffondere a tutti. Si può salvare un proprio familiare, un proprio amico che è in una situazione critica. Tutti dobbiamo sapere, dai bambini, dai più piccoli possibile. Basta poco, davvero basta poco. Grazie. Grazie.